Primo punto, previsto dal giorno del giorno, che è esame le condizioni di elegibilità con la prima data. Prego anche, usate la regola di Sina di passare per i banchi e donare un omaggio che ha voluto fare il sindaco, un omaggio con la reale del sindaco a tutte e anche l'assistente. Grazie.